E' stato festeggiato ieri anche a Sassari il Santo dei Miracoli, Sant'Antonio da Padova, dottore della Chiesa, canonizzato nel 1232 ad appena un anno dalla morte. A Santa Maria di Bethlehem i francescani conventuali hanno celebrato funzioni al mattino e in serata la Messa Solenne presieduta dal padre guardiano Salvatore Sanna. Tutte concluse con la distribuzione del tradizionale pane, benedetto e offerto ai fedeli, che hanno così potuto consumarlo per devozione. Nel pomeriggio è stata inoltre ufficiata la benedizione insieme all'affidamento dei bambini. Sono state promosse anche una pesca benefica e la donazione del sangue, presente l'auto emoteca dell'Avis in Piazza Santa Maria. I festeggiamenti avevano preso il via il 31 maggio con la consueta tredicina terminata martedì scorso. In serata, a causa del maltempo, non si è invece svolta la prevista processione con il simulacro di Sant'Antonio e la Sacra Reliquia, un frammento ad osso. La nuova statua è stata realizzata dal laboratorio d'arte dello scultore salentino Antonio Pappa e per la prima volta esposta a Sassari in occasione dei festeggiamenti dello scorso anno, anticipati ai primi di maggio dall'arrivo in città di due reliquiari, contenenti un frammento della Massa Corporis e un pezzo di costola di Sant'Antonio.